Ma sai che adesso non ce la faccio, criminali? Te l'ho detto che hai mangiato troppo! Nonno, non ho mangiato troppo! Allora, secondo me tu ti sei appuffato, e se continui così sai cosa ti succede? Vai a confessarti che è meglio, va! Chi è? Guarda, di me prende, va, vai a confessarti, va! Padre, proprio lei c'è il capo! Dimmi, figliolo! Io mi do a confessare, da quando sono tornato al fronte ho un petto qua, sullo stomaco! Non ti sembra di aver mangiato un po' troppo? No! Oggi ho mangiato tre tanti pasta asciutta, cinque cotoretti, cinque tirani su, caffè, ha mangiato caffè? Un moderno vuole fare! Mi sembra che stai esagerando? No! Pensa ai tuoi fratelli che non hanno nulla! Va bene, figliolo, che ti assorgo dei tuoi peccati! Padre, padre, mi sento a mancare? Aiuto, chiamate le croce rossine! Croce rossine! Croce rossine! Eccolo! 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 Esattamente! No, no, no! Oh! Questo non va! No! Sì, è il pilato! Piazza! Cigli Santi! Oide questo non è in basso! Piazza! Chielsi! Cigli Santi! Piazza! Ma ora prima tenere laüre, non puoi incontrare la Knightia. E ora, portiamolo di là, in modo che possa riposare in pace, Maglialotto. Crediamo per lui. 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 Per lui. Crediamo per lui. Crediamo per lui. 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 Grazie.